Su Radio 1 c'è una novità Questa è la voce di Baldini Ciao Fiorello Per la prima volta Insieme su Radio 1 Se tutti pronti sa per iniziare Pubblico di Radio 1 Sappiate che di voi in giro si dicono cose brutte Perché quando noi avevamo detto Andiamo su Radio 1 Nooo Non ci andate sono vecchi Invece no Fiorello e Baldini Fuori programma è qua Io ho visto pubblico di Radio 1 Giocare a Candy Crush Vero Io ho visto pubblico di Radio 1 Fare la fila al concerto di Violetta Ho visto pubblico di Radio 1 Il casco del motorino con le orecchie Giovanissima Sappiate che di voi dicono questo Fiorello e Baldini Fuori programma è qua Alle 8.30 e replica alle 13.30 Fiorello e Baldini Su Radio 1 Ci saremo tutti? Chiesa!